E' stato dato questa mattina il via ufficiale al bando per la realizzazione della nuova piscina comunale di Isernia. Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco Giacomo D'Apollonio, l'assessore allo sport Antonella Matticoli e i tecnici dei competenti uffici comunali che hanno portato avanti i progetti della struttura. Il bando ha per oggetto la progettazione esecutiva e i lavori di demolizione e ricostruzione dell'impianto natatorio in località Le Piane per un importo di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Finalmente oggi, proprio oggi, il 3 settembre del 2021, c'è la pubblicazione sui giornali, sui quotidiani, sulla gazzetta ufficiale anche europea e sull'albo comunale, sul sito comunale del bando. Quindi noi speriamo sia una bella procedura snella. Adesso è un bando integrato di progettazione esecutiva e di lavori. Speriamo di poter dare, non la piscina che i cittadini isernia conoscono, quella vecchia, diamo una piscina completamente nuova. Un progetto importante e ambizioso per ridare alla cittadinanza una struttura nuova dopo una chiusura di oltre 6 anni. Una piscina con 8 vasche autorizzate dal CONI, dalle federazioni nuoto e una vasca aggiuntiva per avviare i bambini all'attività sportiva. Abbiamo una piscina che sarà addirittura omologata per le gare interregionali del CONI, quindi anche a livello agonistico, oltre a una piccola piscina per iniziare il nuoto e le attività natatorie per i ragazzi. Quindi, insomma, è un impianto completamente nuovo, viene ristrutturato, viene abbattuto e ricostruita tutta la parte della copertura che purtroppo presenta rischi di sismicità, insomma, di importanti, per cui è un lavoro molto bello e non posso nascondere la soddisfazione dell'amministrazione per essere arrivati sul filo di lana anche almeno alla pubblicazione del bando. È un lavoro che ci ha impegnato molto, era una delle criticità che abbiamo trovato perché la piscina è stata chiusa, ricordiamolo, precedentemente al nostro insediamento e che finalmente adesso, che se ne dica, insomma, questo è il risultato.